lolina ciao 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 oggi è giorno di favolo e forse quella torta mi fa già pensare a che favolo stai per fare e si e si e si oggi facciamo la seconda parte di un film classico che sarebbe frozen frozen fever bevissima lara peri brevissima e da parte olaf la dietro chi partecipa e lei ciao ora non arrivata sleeping bb è una delle ultime bamboline che abbiamo scartato e quando abbiamo aperta veramente ci hai fatto venire in mente subito anna di frozen sei uguale infatti e si e hai anche una particolarità perché la nostra sleeping bb ha un piccolo difetto quindi qui le manca un po di colore dei capelli e quindi sembra proprio anna perché anna ha una ciocchina chiara infatti grazie e ti manca un'altra attrice ma dovresti averla già già insomma e si elsa sempre eccola e lolina dovevo dirti una cosa che cosa snow angel e non posso favolo che cosa e da fare cosa e ho ricevuto una sms con un'offerta di un negozio bellissimo devo andare assolutamente a fare shopping e quindi ciao vengo conti ecco questa come sente la parola shopping e niente lolina e non hai più elsa e ora come faccio ma che devo fare il casting anche questa volta ma no non è possibile poi al casting vengono sempre dei personaggi particolari non è possibile e lolina che c'è lì c'è qualcuno ma no ma no ma no c'è mai visto cosa ha combinato con alice e appunto è stata un successone lolina no 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 non posso farle fare elsa non è possibile ma guarda lolina pensaci perché c'è alice lol è stato veramente un ha fatto il botto proprio infatti glielo facciamo fare ad alice e vabbè proviamo glielo provo a chiedere e allora sì lolina dai alice ti alzi mi sono già alzata alice quando ti sei alzata questa mattina vedi non è possibile dai riprova alice dai ti prendo io oh mi hanno alzato eh sì alice se no aspettiamo te ma ciao sì alice ma ciao lolina ti voleva chiedere lolina lei? sì quante loline ci sono ce n'è solo una di lolina allora lolina ti voleva chiedere se vuoi fare la parte di elsa oh che bello e in frozen fever oh mi piace molto frozen fever l'ho visto anche mi piace molto frozen fever e l'ho visto anche oh cap sì ok lolina hai trovato le tue parti delle tue attrici puoi cominciare eh va bene tu la sai la parte? ecco a posto la sai la parte? la parte per il tutto in che senso? è una figura retorica la parte per il tutto cioè? cioè se io dico il ferro intendo la spada ma perché parlo di queste cose con te che non le capisci? ok cominciamo? inizia frozen fever era un giorno molto speciale nel castello di Arendel di Arendelol c'era una bellissima torta pronta e un buffet ricco di cose buone da mangiare e c'era anche Olaf che insomma aveva già un pochino il musetto sporco di dolci e quindi si stava già mangiando un po' di tutto e Elsa stava ultimando le ultime cose ed era molto attenta ai particolari ecco aspetta che ti ha questo ok ti pare che tutte hanno il vestito di Elsa? a me mi hanno dato questa cosa con i merletti ma io non lo so non c'entra niente con con frozen io non lo so avevamo solo questo non fare polemica ok oh guarda una torta l'ho fatta io? sì oh e dove sono i giudici? non è Masserol? ah no? è frozen ah veramente? vai avanti ok allora devo dire Olaf non devi mangiare la torta Olaf non c'è e dov'è? devi arrivare ah scusate adesso lo devi dire ma Olaf non c'è? è davanti a te oh guarda Olaf ma ciao ciao senti non ti devi mangiare la torta no no tranquilla non la mangerò la torta bene perfetto perché io devo andare a chiamare mia sorella la devo svegliare le devo far vedere i suoi regali bene mi raccomando non ti mangiare la torta oh guarda ma che bella cucina un frigo una pattumiera gigante e un distributore di bibite certo che lullina poverina potrebbe migliorare un pochino negli allestimenti Elsa che sveglia Anna che faccio a volo? mi prendi tu Barbara? sì Alice scusami Elsa oh guarda mia sorella sveglia buongiorno tanti auguri è il tuo compleanno sveglia e ti dai ok brava adesso dobbiamo vestirci perché c'è una sorpresa per te veramente? sì tesoro è il tuo compleanno ti eri dimenticata? eh no meno male se no poi sono io quella svampita senti ti dovresti vestire ok ecco Vatto tutto qui? eh sì questo è su una mantellina sì ma io ho un po' freddo accontentati va bene adesso andiamo a prendere tutti i tuoi regali ti faccio vedere un sacco di belle cose vieni con me sorellina ok oh guarda è comparso magicamente un filo chissà a cosa serve seguiamolo oh oh chissà chi ce l'ha messo ce l'hai messo tu oh l'ho messo io oh oh ecco questo è il tuo primo regalo che piace? che bello è un cuscino con scritto coccolami esatto io comincio a vedere un po' e scusami e e e e e e e salute Elsa no tranquilla non è niente andiamo continuiamo a cercare gli altri regali ok vieni andiamo il filo ci porta fuori continuiamo che bello ma cos'è? cosa? quel questo qua ah questo è un annello con un unicorno che bello ti piace? bello allora continuiamo a cercare altri regali ma e e e e e e ciu Elsa saluto di nuovo salute per cosa? hai salutito veramente? sì ah e Alice sì ti è caduta la mantella? ma veramente? è giù per terra è caduta ecco perché avevo tutto questo freddo e e e e e ciu ma ma quelle lille vabbè salute grazie vabbè ci sto togliamo questa cosa se no questa ci inciampano ecco siamo arrivate da un altro regalo ti piace Anna? sì è una gomma è una gomma unicorno che cosa stavo dicendo? ah una gomma unicorno ti piace? sì è bellissima io però comincio a sentire come non so come? non so come? eh non lo so se non lo so e e come faccio a sentire che bello questo regalo ma Alice dove sei? sono qua su ma dove? ancora più su ma ciao Alice scendi è pericoloso ma no non può succedermi no e adesso il regalo il regalo il regalo ok è sceso ma Alice ti sei fatta male? no tutto a posto ah ti vedo un po' sotto sopra ma cos'è quella cosa là? non lo so mi dovrei prima girare posso girarmi Rollina? dai sì devi girarti ok oh adesso sì che mi sono girata ma al rovescio ti devi mettere in piedi veramente? ah ma ciao dicevi? che cos'è questa sorpresa? è un water apriamolo va bene wow è un water con dentro qualcosa slime oh guarda è uno slime che fa dei rumori tipo puzzette vuoi provare anche tu? forte? forte? no tu hai il dito più educato il tuo dito non fa le pozzette quello di Barbara sì oh ah e Anna ti piace questo regalo? sì è bellissimo bene un po' è molto fine soprattutto hai finito di giocare eh scusa Rollina però è bellissimo questo slime oh scusate oh ma però io sei non mi sento molto bene in che senso? eh mi se eh 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 ma Elsa eh 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 Elsa basta eh 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 e ciu e ciu e ciu Rollina aiuto ma che cosa succede qui? oh no Alice sta sduplicando Lilla ad ogni starnuto non è possibile e come si può fare? eh direi ragazze torta per tutti? sì ecco facciamo entrare la torta così questa la mettiamo a letto ok? la piantate con quel butter? Clara basta ok Lollina e su si sentono le puzzette basta entri la torta giacca e torta ecco Anna tanti auguri grazie Olaf prego ma per caso hai mangiato un pezzettino di torta? io? no perché? eh ho visto che mancava un pezzettino e là oh la rimetto subito a posto ecco la torta del sé piena ok ok tanti auguri Anna grazie eh tanti auguri ma hai visto queste Lille? chissà da dove sono venute eh mi chiedo pure io non lo so saranno sbucate dal nulla boh ok ok ora mangio la torta e a letto perché se non fai altri cento Lille bene spero che questa storia vi sia piaciuta e la nuova sleeping baby è stata veramente bravissima senti Barbara dimmi Lollina ma in questo video i regali erano qualcosa di speciale ci vuoi parlare di loro? sì certo allora in questo video ho inserito delle cose ossia l'anello unicorno la gommina unicorno e il butter che fa le puzzette oh mamma mia perché sono delle cose che porterò al prossimo Romics nello stand di Babu oh che bello quando? dal 5 5, 6, 7 e 8 di aprile 2018 in Fiera di Roma a Roma Fiumicino quindi se volete venirmi a trovare in stand mi trovate al Romics in quei giorni sarà un'occasione per poterci incontrare noi siamo nel padiglione centrale in fondo vicino al ramen quindi spero di vedervi e appunto mi chiedete sempre quando si fa un raduno o qualcosa ecco questa è un'occasione venitemi a trovare al Romics e mi raccomando mascheratevi vestitevi fate cosplay eccetera eccetera un bacio a tutti quanti grazie di cui aver visto questa favolol viva le favolol e niente un bacio a tutti quanti ciao ciao